ciao a tutti bentornati a tutti quanti voi sia gli iscritti che non iscritti ai nuovi grazie mille sempre del vostro affetto ci tengo proprio a ringraziarvi ogni volta che che mi connetto con voi diciamo che tramite questi video grazie 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 veramente a tutti quanti eccoci oggi con un video per andare a vedere un po l'energia come si muoveranno per te che ascolti nei prossimi 15 giorni va bene prossime due settimane massimo 15 giorni e vediamo appunto come nel video precedente che tanto è piaciuto con due stese solo un pochino più lunghe quindi ognuna più approfondite dove ho già preparato diciamo delle energie già poi ne aggiungo qua diciamo altre oracoli tarocchi eccetera che vi ringrazio tutti anche prima che mi dimentico per i miei mazzi quelli che hanno acquistato i miei mazzi grazie mille veramente a tutti vi ricordo che possono essere ancora caricate anche da me a distanza oltre che ad essere già chiaramente con l'imprinting giusto energetico che ho dato già nella realizzazione appunto di questo mazzo però chi vuole posso aggiungere anche un'altra diciamo iniziazione ancora a distanza e chi desidera anche questo ovviamente gratuitamente allora partiamo subito scegli la piuma viola per la stesa 1 e la piuma verde scuro per la stesa 2 e poi apriamo tutto quanto diciamo apparecchiamo la tavola allora abbiamo già qua questo lo togliamo piuma viola e vediamo intanto per iniziare vediamo prossimi diciamo eventi o cosa sta per accaderti cosa sta per arrivarti insomma queste cose qua e abbiamo sia l'oracolo millenario appunto dell'Icingo un arcano maggiore e un consiglio anche degli angeli poi ne metterò anche altri vediamo intanto il primo poi ci diciamo avvaliamo anche del libretto di istruzioni comunque perché questi sono proprio molto precisi e non si può andare così a naso è allora iniziamo con l'Icingo per te che ascolti che hai scelto stesa 1 piuma viola partiamo per te vediamo cosa ci dice l'Icingo superficialità numero 12 o anche 21 per te ok qua sembra che ci sia una scacchiera diciamo un giocare forse forse qualcuno di voi è in qualche situazione in cui si tende ad avere questi comportamenti o lo subisci ok o sei tu che magari ti comporti in questo modo perché comunque l'energia è reversibile e questo è un collettivo quindi o stai subendo dei comportamenti del genere con qualcuno che gli piace molto giocare oppure tu per una tua incertezza magari tendi ad avere un comportamento più ancora diciamo poco definitivo perché non hai molto chiare magari le cose adesso vediamo ti ricordo 12 21 vediamo un po' che cosa vuol dirci l'Icingo del numero 12 con la superficialità un attimo che cerco allora la superficialità numero 12 allora non illudiamoci facilmente si ama per le ragioni più diverse e tutte portano al ristagno l'Icingo consiglia di ritirarti in te stesso nella tua segreta intimità per dare profondità all'amore ok quindi qui forse qualcuno sta con qualcun altro anche per vedi come schiarisce qua molto sempre l'Icingo ci fa capire che tanti che ascoltano qua sono in una relazione non voglio dire superficiale perché non mi piace però a livello di profondità amorosa forse forse tanti stanno insieme per dovere stanno insieme perché perché così deve essere stanno insieme perché perché è passato tanto tempo insomma capitemi tutti questi tipi di argomentazioni qua ok perciò qua ci dice appunto anche l'oracolo c'è un po' di di ristagno quindi in questo modo non c'è un fluire dell'energia dell'amore quello vero va bene quello profondo e qua ci dice si ama facilmente per le ragioni più diverse per carità per carità nessuno ne giudica o dice niente però qua ci dice ritirarti in te stesso quindi un po' di meditazione anche su quello che è in questo momento diciamo la tua vita anche sentimentale perché questo è l'oracolo dell'amore no è sempre l'iching per carità e comunque spazia sempre ampiamente anche altrove però abbiamo proprio l'iching dell'amore e ci dice proprio di porre attenzione a com'è questa storia questo vedi tu questo è un consiglio per dirci di andare un pochino più magari a volte anche in profondità ok di farsi un po' di domande sul perché magari uno sta insieme anche cosa che si trova ovviamente quando quando uno si ritira in se stesso come ci dice appunto di farli ching andiamo avanti vediamo un'altra energia prossimi 15 giorni le stelle quindi qua magari un arcano bellissimo molti abbiamo visto poi comunque nel tempo questi sono rapporti molto a volte anche destinati o carmici se vogliamo magari siamo in presenza di situazioni di vita non parlo solo d'amore ma di vita intendo in modo molto anche carmico magari situazioni di legate a persone situazioni che tendono a ripetersi ciclicamente va bene magari perché perché c'è un discorso di lezione anche da imparare a volte comunque ci stanno anche delle notizie in arrivo devo dire positive però molto molto è dato dal cielo qua qua piuma piuma viola molto è dato dal cielo magari stai in un ciclo stai in un momento proprio cruciale di svolta va bene dove senti già tua pelle che c'è un cambiamento che forse c'è qualcosa che si sta smuovendo in te va bene vediamo anche l'angelo cos'è che ti vuole dire ancora un magico momento nella tua vita dove i tuoi desideri e i tuoi sogni potrebbero anche diventare realtà ok può sembrare anche che ci sei in arrivo qua dice una buona fortuna per te e anche tempi felici in arrivo va bene e questo è anche perché dicono che in realtà sei una persona molto amorevole sei una bella persona sono una persona bellissima dicono qua gli angeli ti chiedono di gioire della vita va bene e di divertirti di più qua l'angelo ha dato proprio un consiglio preciso gioisci divertiti va bene perché sei una bella persona perché te lo meriti perché tante cose stanno accadendo anche per un tuo discorso di lavoro personale di cammino personale che come anima ognuno di noi si sceglie quando viene su questa terra a seconda anche delle esperienze ancora da ultimare da completare finché non le impariamo tutte non si può progredire però qua ci dicono che hai un buon cuore che sei una bella persona quindi potresti anche avere sempre paragonato insomma quello che ho detto al titolo è non perdiamo mai di vista l'argomento principale prossimi 15 giorni quindi comunque qua ci dicono che c'è anche una buona fortuna quindi buono per te anche se stai aspettando tipo del denaro stai aspettando un'assunzione stai aspettando una casa stai aspettando un amore magari diverso stai aspettando qualcuno tante cose qua ci dicono cose e tempo magico sembra proprio un tempo magico ci dice qua eh vediamo ancora anche un'altra di queste che raggiungo ora vediamo perché ha scelto la stesa 1 piuma viola prossimi 15 giorni diamo un po anche un tipo di energia di queste ecco qui perché si è probabilmente dentro un qualche giochetto qua la chiamano questa si chiama gioco politico comunque sempre un set di spade la possiamo chiamare come ci pare ma sempre un set di spade quindi per chi sa cosa un set di spade allora attenzione perché comunque siamo in presenza anche a volte di comportamento di persone intorno a te non sempre chiare va bene vedete qua questa maschera e dietro non è che c'è proprio il santo è dietro questa maschera va bene di qua ride ma di qualche peggio non so qual è la peggio faccia di queste due poi cioè qua siamo in presenza di questo tipo di magari nel tuo ambientino di qualcuno insomma che non te la racconta proprio proprio per niente giusta quindi qua ancora prossimi 15 giorni potrebbe essere un po' altalenante la cosa sia per alcuni di voi per una parte di voi anche da belle notizie ma per un'altra parte ancora che continua probabilmente perché ce l'avete già da molto tempo magari una persona dalla doppia faccia potrebbe essere sia un partner in cui non credete o in cui sentite una certa puzza di qualcosa eccetera eccetera e quindi qua ci dice che comunque questa persona effettivamente sembra proprio essere così o comunque la stai subendo nel posto di lavoro insomma sono tante cose qui sembra che attorno a te ci siano anche ancora personaggi di questo tipo mi raccomando più ripulisce la tua energia e più il buio rimbalza questa è la verità non è che esistono tante pozioni cioè il discorso è sempre energetico sia quando si è attaccati dal male è sempre un discorso energetico non è che c'è la scintillina magica che cammina nel cielo o non so nel sottosuolo e poi viene da noi no è sempre una questione energetica anche le entità negative a là si attaccano non pensate che c'è il mago cioè in realtà è tutta una questione di energia perché voi non mi mandate a quel paese ma io insisto sempre lavorate 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 su di voi più c'è un'energia potente personale e più sta gente che manda ste robe addio non v'attacca niente lo dico sempre perciò mi raccomando mi raccomando tanto tanto lavoro per alzare questa vibrazione personale perché alla vibrazione personale alta non si può attaccare nessuna larva nessuna cosetta mandata spero il messaggio sia molto chiaro e ritorna al mittente adesso andiamo un po' approfondiamo anche qualcos'altro per quanto riguarda te che hai scelto la stesa 1 piuma viola cosa sta per accadere qua eventi prossimi dentro 2 settimane 15 giorni qua stesa 1 piuma viola si si ma qualcosa ti arriva eh qua qualcuno riceve anche qualche soldino o lo vinci o stai recitando i decreti qua c'è sì assolutamente anche dei festeggiamenti vedo vabbè qualcuno sarà il periodo in cui siamo però magari se uno lo apre è un altro periodo tanto è sempre valido lo sapete è questo un giorno che lo apri va sempre bene viaggi spostamenti per alcuni anche traslochi buona notizia perché aspetta un trasloco un trasferimento un qualcosa eh riguardo notizie sulla casa è anche qualcuno casa vedo anche lavoro vedo anche del lavoro delle proposte che ti arrivano anche lavorative probabilmente da una donna probabilmente da una donna ma questo non ci importa nel senso cioè basta che arriva chi chiama chiama ok poi ti vedo comunque divertirti uscire quindi i prossimi 15 giorni comunque al di là perché qua sono i discorsi quelli che pesanti ma non perché pesanti brutti pesanti energetici eccetera però in realtà diciamo poi il tuo quotidiano perché qui stiamo guardando proprio anche spicciolo cioè nel senso cosa c'è domani cosa c'è dopodomani cioè non è che adesso poi lo sappiamo che le cose grandi ci vuole il tempo ok qui adesso andiamo a vedere subito un attimo cos'è e qua comunque c'è da fare qua ci avrai comunque vita sociale eh esci ti vedo uscire divertirti qualcuno c'è da pure qualche trovare qualche figlio qualche figlia comunque c'è proprio un tuo muoverti ti vedo molto muoverti eh comunque è piacevole devo dire qua qua non abbiamo lacrime non abbiamo cose cose particolari notizie devastanti o che cosa eh perché queste sono più profonde queste sono quelle che vanno a lungo nel tempo qui adesso nei prossimi 15 giorni ci danno molto buono devo dire a livello di notizie con vocazioni traslochi case viaggi va bene figli divertimenti uscite queste cose qua eh prossimi 15 giorni perché scelto la stesa uno piuma viola ancora con i tarocchi vediamo qualcosa e con i tarocchi vediamo qualcuno è anche invischiato in qualche scelta è qualche scelta da fare da un qualcosa che vi pesa che va fatto qualcuno di voi all'ascolto ha preso devo dire anche le distanze da qualcuno o da qualche situazione da qualcuno o da qualche situazione dipende chi è che ascolta e in che situazione sei tu perché vedo tanta stanchezza per un qualcosa anche eh probabilmente qui ci sta di mezzo proprio anche un certo discorso un certo discorso di vita che ecco eh probabilmente riguardo qualcuno qualche persona l'amore qualche legame qualcuno che non c'è anche per molti qualcuno che ti è venuto in mente o che hai pensato perché non c'è qui in questo momento adesso che ascolti è lontano eh però tutto sommato devo dire questa cosa che ti crea un po' di amarezza se qualcuno ti manca lo vedo comunque che ti manca cioè nel serio voglio dire ti manca e ti mancherà anche nei prossimi 15 giorni perché comunque c'è qualcuno che sta proprio da un'altra parte qua c'è qualcuno che non si sa boh dove sta cosa fa eh situazione qualcuno si è allontanato anche per molta pesantezza qua comunque vedo vedo sempre questo eh vedo comunque questo buone nuove comunque con questo bellissimo arcano dell'imperatrice per te eh buone nuove assolutamente perché comunque all'ascolto ci sono anche persone qua molto come dire con complete di tutto cioè non ti manca proprio niente questa è la carta della fertilità della maternità anche del lavoro dei nuovi inizi delle donne capaci no delle energie belle potenti no anche quindi io questi questi per me sono tutti eventi energie che si spostano che si muovono ma questa situazione qua o del qualcuno che ti manca qualcuno che non si fa sentire va bene che pensi di aver perso un'occasione la pesantezza che ti ha provocato questa cosa la vedo comunque continuare ma non la vedo così determinante poi alla fine eh vediamo un po' ancora cioè nel senso che poi ci avrai altre altre situazioni sì qualcosa di conflitto qui c'è stato pure eh qualcosa che comunque andrà a definirsi vedrai andrà a definirsi è perché ci termina con un bellissimo nome di coppio comunque d'abbondanza di bellezza perciò qualcuno allora qualcuno ma penso proprio pochissimi la situazione di amarezza che hanno è relativa anche al denaro al denaro per cui hanno dovuto un po' combattere litigare per un arrivo di denaro che non arriva per alcuni anche una somma abbastanza cospicua devo dire qua non sono soldini piccoli quindi qualcuno prossimi 15 giorni probabilmente ce la fa anche a ad entrare in possesso di questo denaro eh eh sì quasi vediamo un po' un attimo anche un'energia d'amore per chi interessa l'amore ovviamente un'energia d'amore per chi è interessato più che altro al discorso sentimentale o anche solo curioso vediamo un po' qua stesa uno piuma viola com'è il discorso amore qui prossimi 15 giorni prossimi eventi com'è conversazioni sincere esprimete onestamente l'una all'altra i vostri sentimenti ecco qua c'è bisogno di chiarezza di parlare perché probabilmente è mancato o perché sta mancando ancora anche nel momento presente nel qui e ora una totale sincerità va bene tra te e la persona che ti interessa comunque qua c'è un forte consiglio di parlare chiaro va bene di parlare diretto di essere sinceri va bene perché non bisogna aver paura la verità anche se a volte fa male ma è sempre la verità e prima o poi ci si cura da tutto quanto no quante ne abbiamo passate nella vita tutti quanti tanto siamo tutti più o meno no sullo stesso piano chi non ha avuto mai problemi chi non ha avuto mai sofferenze quindi comunque la verità è l'unica cosa che resiste che rimane ok e che non invecchia mai quindi affrontare c'è qualcosa da affrontare che ti crea anche tutto questo ma l'essere qua se c'è qualcosa forse è ora di affrontarlo e di parlare sinceramente una volta per tutte se sei chiaramente tra quelli che hanno una situazione del genere ricordo che è un collettivo va bene adesso vediamo un consiglio un consiglio proprio dai miei messaggi divini l'oracolo che ho creato io e vediamo per te cosa c'è da dire oggi cosa c'è da dire oggi sincronicamente perfetto alla piuma viola a chi è all'ascolto qui ora vediamo un po' cosa c'è per te piuma viola stesa 1 proprio in questo momento gli angeli sono coinvolti nella tua vita 554 544 cambiamenti in arrivo cambiamenti in arrivo eccolo qua un'altra volta che arrivano queste belle notizie qualcosa di buono comunque chiaramente non per tutti ma per moltissimi sì per moltissimi sì perché è rimarcato proprio più di una volta gli angeli sono coinvolti nella tua vita quindi qui anche un 55 un 45 un 44 o comunque i numeri 4 e il numero 5 va bene qua c'è un chiaro messaggio di vicinanza qualcuno probabilmente lo percepisce anche magari altri no forse hanno il dubbio ma sarà stato quello ma sarà stato che cosa è stato no magari tanti hanno percepito delle cose che vanno fatto un po' drizzare come dire le antenne però qua ci dicono che sono loro sono gli angeli che sono coinvolti nella tua vita quindi c'è un supporto c'è un sostegno non ti devi preoccupare cambiamenti in arrivo quindi sono con te anche molto spesso gli esseri di luce quando si sta per verificare un qualcosa va bene e ci danno un supporto a volte di energia in più perché probabilmente sta per accadere qualcosa e ti serve va bene il supporto un supporto plus ok cioè un qualcosa di forza che ti dà una forza maggiore perché l'energia loro quando la sentite è una roba l'energia degli esseri di luce delle altre dimensioni è una cosa che non si può spiegare da nessuna parte bisogna solo viverla e sentirla qua gli angeli sono coinvolti nella tua vita perciò c'entrano perciò chiamali io solo questo ti posso dire affidati chiama chiedi risposte sempre non ti devi stancare qua bisogna essere come caterpillar non è che la risposta arriva quando pare a noi la risposta arriva quando decidono loro o perlomeno anche anzi direi quando siamo pronti a capirla perché a volte ci arrivano tante cose ma non ne capiamo manco mezza allora a volte accade che c'è quel detto che molti di voi conosceranno che dice tutto accade e quando sei pronto per vedere vedrai vedrai ok quando sarai pronto per sapere saprai quando è il momento ognuno vede ognuno sa quindi probabilmente se ancora non sai non è il momento però qua credo che ci siamo è perché cambiamenti in arrivo gli angeli che stanno lì a farti un po no da supporto quindi vedrai che qua qualcosa va proprio a smuoversi a breve quindi più o meno queste erano le energie per te piuma viola io ti ringrazio moltissimo lasciami anche un like al video se vuoi iscriviti al canale ti aspetto presto anche in un prossimo interattivo intanto togliamo questo e io procedo vado avanti allora la seconda stesa con la piuma verde scuro vediamo intanto l'oraco li ching un arcano maggiore e un messaggio angelico intanto per iniziare poi aggiungiamo aggiungiamo dell'altro per quanto riguarda li ching abbiamo quella spiegazione specifica che ti andrò a leggere quindi vediamo cosa sta per accaderti cosa sta per arrivarti nei prossimi 15 giorni va bene vediamo un po di eventi di energie cose che magari già ti aspetti o anche cose che non ti aspetti vediamo un po cosa accade per te seconda stesa piuma verde scuro no all'amore qui è come se qualcuno dice no all'amore numero 38 o 83 qua c'è sia ciò che è spinoso però qua abbiamo il fiore che galleggia nell'acqua quindi comunque siamo un po indecisi qua siamo un po non sappiamo molto che cosa fare no? dire no all'amore è come se qualcuno si sottraesse all'amore vediamo un po cosa ci dice proprio proprio lui la spiegazione proprio ufficiale di tutto questo si tratta di amore non corrisposto l'oracolo parla di diversità incolmabili disordine disunione separazione le due volontà in gioco si esprimono ciascuna per sé e non si incontrano non si armonizzano quindi qua da una parte c'è molta indecisione ma da una parte c'è anche l'aver capito di avere una certa incompatibilità con un qualcuno che ti interessa o forse è realizzato in questo momento la tua energia è diciamo in un momento in cui ha realizzato forse una cosa che potrebbe non verificarsi perché non si riesce proprio a collimare non si riesce a incontrarsi non c'è un punto di incontro non c'è un'affinità tale da permettere comunque un'unione va bene forse qualcuno l'ha capito adesso qualcuno l'avrà capito già da un po' ma non importa questo diciamo qua è come un po' aver realizzato che forse un qualcosa non potrà accadere vediamo anche l'energia il carro comunque qua ci indica anche del movimento in arrivo per te nei prossimi 15 giorni per chi sta cercando casa è anche la carta del trasloco per chi vuole viaggiare chiaramente è anche il viaggio quindi comunque movimenti ci saranno perciò questo va molto bene per chi comunque interessa questo no anche andare che ne sono nella casa delle vacanze per alcuni magari non è la casa definitiva invece per altri proprio un'altra casa proprio dove vivere ok proprio pianta stabile in un'altra casa perciò molto bene movimento ce l'abbiamo qua vediamo l'angelo sei stato chiamato qui sei chiamato ecco sì sei chiamato e qui devi tirar fuori il tuo potere personale ti devi sentire sicuro o sicura di te stesso o te stessa sei più forte sei molto più forte di quello che pensi gli angeli ti danno anche oggi abbiamo gli angeli forzuti e qui dice che gli angeli ci danno molta forza ci stanno dando della forza extra oggi abbiamo degli angeli veramente potenti stanno mettendo un sacco di potenza allora qui in questo momento se ti senti molto triste ti senti un po in depressione comunque sono tutti conflitti interiori alcuni hanno conflitti interiori hanno conflitti con gli altri però qua ci dicono che devi tirar fuori il tuo potere personale cioè devi proprio prendere in pugno scusami la situazione e ti devi sentire sicura o sicuro di te stesso qua mi raccomando perché ce lo dice proprio e poi ti dicono che stiamo dandoti anche una forza in più quindi stanno proprio anche diciamo dando veramente un aiuto è di forza per superare delle cose vediamo anche un'altra energia per i prossimi 15 giorni e qui c'è anche un discorso un po di coscienza sembra qualcosa che proprio non si riesce a digerire o è stato fatto o ti è stato fatto anche qualcosa di non tanto devo dire pulito pacifico qua c'è un qualcosa che brucia c'è un qualcosa che si sa che magari si è sbagliato e non ci si riesce un po a dar pace sembra qua un'energia che ascolta in un'energia un po così di questo tipo sembri proprio qua adesso che che vedo un po tutto quanto qualcuno se ne vorrebbe proprio sparire se ne vorrebbe proprio andare sembra qua comunque abbiamo un supporto angelico ricordatelo sempre abbiamo una forza in più ci devi credere di tutto questo è vediamo ancora dopo facciamo anche l'oracolo dell'amore e vediamo prossimi eventi a breve qua per la piuma verde scuro a breve piuma verde scuro cosa sta per accadere sì qua qualcuno qualcuno qua gli è successo ha rotto qualcosa ha chiuso qualcosa ecco qua di nuovo il trasloco ragazzi eh deve cambiare deve cambiare casa qua qualcuno va anche da un professionista che sia un dottore no o che sia qualcuno che non è stato molto bene di saluto le vede andare a fare le visite comunque vi vedo comunque muovervi tanti che sono interessati per la casa li vedo comunque traslocare li vedo comunque andare verso proprio un cambio completo tanti vedo anche ancora che continuano come se stessero male e come se pensassero a qualcosa che stanno un po sul letto ok a piangere su qualcosa no mi sembra molto questo mi sembra molto questo però insomma adesso non sono carte negative sono carte più che altro che ci dicono che ancora un po il tuo stato magari perdurerà va bene anche nei prossimi 15 giorni su un qualcosa che proprio non che non riesci proprio a questo è sempre qui in questo momento comunque magari anche da tanto però è un momento proprio che non si riesce va bene che non si riesce forse a uscire un po da un certo circolo continuiamo un po ad approfondire qua la situazione di chi ascolta adesso la piuma verde scuro approfondiamo prossimi 15 giorni cosa sta per accadere comunque ci sono anche incontri ragazzi qua è con l'uomo del cuore con la persona del cuore qua li vedo vediamo un po prossimi 15 giorni stesa 2 piuma verde scuro stesa 2 tanti devono definire anche qualcosa di legale devo dire deve concludersi qualcosa di legale o comunque da definire qualcuno proprio non ce la fa più a stare in coppia in qualcosa una società o una coppia per chi è il lavoro è una società per chi non è il lavoro è proprio lo stare in coppia è che se ne vuole andare proprio qua abbiamo 6 di spade andarsene via da un'altra parte e basta qua qualcuno è anche nel pieno in un pieno ciclo è come immaginavo da qua è un pieno ciclo comunque di vita e si è ritirato in se stesso qua vedo un sacco di meditazione per te un sacco pensare va bene a qualcosa che si è concluso perché tanti hanno anche concluso una situazione che può essere per alcuni d'amore per altre situazioni lavorative comunque della vita che stai vivendo tu è non c'è solo lavoro e amore chiaramente però con un collettivo no? le situazioni sono tantissime quindi a seconda della tua situazione io qua comunque vedo una persona che comunque andrà a meditare che vorrà prendere le distanze ok? nei prossimi 15 giorni perché vuole veramente andare avanti chiudere qualcosa definitivamente perché non basta solo chiuderlo a livello diciamo fisico materiale ma bisogna anche staccare la testa perché magari chiudiamo le cose a livello materiale ma con la testa siamo sempre lì no? come si dice vediamo ancora si si qua vi procede così anche lentamente devo dire sta andando questa cosa però fa parte tutto molto di un ciclo devo dire quindi non aver diciamo timore perché comunque anche se piano chi va piano va sano e va lontano eh? l'eremita deve fare la sua strada non c'è fretta qua qua non ci deve essere la fretta sennò dopo magari il risultato non è non sarebbe perfetto ok? come se come chi l'ha fatto con calma poi come con chi fa le cose con calma no? qua comunque c'è anche un trattenere tanti stanno trattenendo tanti stanno trattenendo non stanno proprio buttando fuori anche tanti quello che hanno dentro eh? che hanno tanta rabbia tanti qua dentro da buttare via va bene? e qui il consiglio comunque è da buttarla via perché qua devi come ti diceva l'angelo anche il tuo potere personale ora di tirarlo fuori qua eh? qua devi tirar fuori tanta forza tanta tanta forza perché anche se lentamente le cose miglioreranno eh? vediamo chi interessa un po' l'amore qua vediamo chi interessa l'amore cosa ci dice per l'amore qua? la stesa verde scuro per l'amore cosa dice? la stesa verde scuro per l'amore vediamo lascia andare il bisogno di controllo eccoci qua il bisogno di controllo che ce lo dice permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente ecco perché qui c'è un circo qui c'è un qualcosa qui c'è un diciamo un cane che corre no? in circolo si cerca di muoversi la coda perché qua c'è un qualcosa a cui rimanete attaccati qua bisogna staccarsi qua bisogna assolutamente staccarsi perché deve fluire qua qua il bisogno di controllo sta ostacolando in realtà sta ostacolando questa chiusura di questo ciclo che deve essere chiuso per ricominciare meglio di prima quindi lo dico spesso anche quando parlo con voi in privato non vi mettete di mezzo nel senso ci mettiamo a volte frapposti tra noi e un obiettivo tra noi e la realizzazione in realtà noi non abbiamo questo potere neanche possiamo sapere se stiamo facendo bene perché non siamo ancora coscienti tanti di quella che è la nostra strada di quello che c'è da fare perciò non conviene frapporsi conviene lasciar fluire sempre e comunque le cose va bene perché se c'è uno scossone da subire prima di andare a star meglio lo scossone bisogna viversolo bisogna passarlo non si può evitare per sempre va bene di affrontare le cose bisogna affrontarle il bisogno di controllo qua ti dice chiaramente estesa 2 piuma verde scuro di lasciarlo andare via ok deve fluire spontaneamente deve svolgersi spontaneamente ci dice qua l'oracolo vediamo ancora per te un consiglio dei miei messaggi divini l'oracolo che ho creato io vediamo un po' il qui e ora sincronicamente perfetto per la piuma verde scuro il messaggio qual è? il consiglio qual è? cos'è che deve sapere? cosa c'è da dire? piuma verde scuro il messaggio per la piuma verde scuro fai ogni giorno un piccolo passo per quello che vorresti 844 855 continua a lavorarci ci dice qua i numeri sono anche 84 48 55 va bene continua a lavorarci ecco perché qua qua c'è un lavoro da fare che devi devi proprio fare molto eh a livello personale quindi qua il consiglio è proprio questo va bene? il consiglio è di non rimanere staticamente così non rimanere ok? perché qua riguardati magari anche all'inizio del video riascoltati tutte le spiegazioni di queste energie perché qua c'è qualcosa che deve essere lasciato andare deve essere concluso deve fluire la situazione sia che si parla d'amore cambi di vita drastici cambi proprio di città, case, paesi tutte queste cose qua c'è da farlo bisogna buttarsi non bisogna mettersi in mezzo bisognerebbe a volte stare un po' da spettatori nella propria vita e vedere quello che accade perché tanti hanno questo bisogno di controllo no? c'erano tante persone questo di voler sempre comunque controllare no? ostinatamente qualsiasi cosa ma in realtà non va bene per tutto va bene per alcune cose ma non per tutto a volte bisognerebbe stare anche a vedere cosa accade bisogna vedere come andrebbero le cose se uno lascia un po' stare sempre quando si può ovviamente su certe cose no? e bisogna intervenire però per tante a volte non fa male vedere proprio come va della serie mo mi metto qui e vedo come va e vedo cosa fa questa persona va bene? anche questo ogni giorno un piccolo passo per quello che vorresti se è tanto difficile per te fanne a pezzetti nessuno ti chiede di fare 10 milioni di chilometri nel senso no? se ancora non sei pronto o pronto un piccolo passo per quello che vorresti va bene? allora io ti ringrazio molto d'avermi seguito lasciami un like al video se non ti sei ancora iscritta o iscritto al canale iscriviti pure seguimi ricordo a tutti anche il mio nuovissimo canale tiktok per chi vuole sono dei video un po' diversi ma anche simpatici anche lì io vi ringrazio tutti chi vuol parlare con me la mail la vedete in sovraimpressione o comunque scendete sempre nell'info box perché spiego sempre va bene? tutte le informazioni su di me tutti i miei social eccetera va bene? io vi ringrazio di essere sempre così affettuosi vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video interattivo con me ciao